Siamo ormai all'inizio della stagione estiva, anzi una stagione estiva quasi inoltrata. Quali sono le novità per quanto riguarda le spiagge libere di Torre del Greco? Già l'anno scorso c'è stata questa iniziativa che è stata reiterata anche perché è stata fatta in ottemperanza a quella che è un'ordinanza della Regione Campania per sopperire alle esigenze dell'epidemia del Covid-19. Quindi viene data la possibilità a una serie di soggetti che verranno poi esaminati da una commissione ed è tutto scritto della manifestazione di interesse pubblicato, di partecipare, di avere la possibilità di prendere in concessione temporanea delle aree libere, quindi le cosiddette spiagge libere che sono individuate ed elencate della delibera e quindi della manifestazione di interesse, di poterle utilizzare chiaramente utilizzando, cioè si utilizzano le aree a disposizione degli utenti ma al contempo naturalmente il gestore dovrà provvedere alla pulizia, alla manutenzione, alla vigilanza, alla protezione. Quindi questo in realtà è un servizio che noi diamo ai cittadini perché innanzitutto è a costo zero perché appunto chi decide di partecipare a questa manifestazione di interesse e di assumersi il compito praticamente di gestire e vigilare, naturalmente è chiaro che come d'autodes la contropartita è che il gestore ha la possibilità poi di installare anche dei velettini, anche per poter somministrare del cibo, bevande, insomma di questo genere, generi alimentari. Ma questo non significa che l'utente perde la spiaggia libera perché l'utente potrà tranquillamente andare, frequentare quella spiaggia solo che appunto avrà il vantaggio di trovarla pulita, ordinata e potrà eventualmente sia affidarsi e utilizzare i servizi del concessionario e sia portarsi la sediolina da casa. Quindi questo è un aspetto che ci tenevo praticamente ad evidenziare quindi tranquillizzare i cittadini che appunto loro potranno sicuramente continuare a utilizzare quelle spiagge come spiagge libere quindi senza dover pagare nessun tipo di ticket, di biglietto per l'utilizzazione. Al contempo però avranno una spiaggia pulita perché il concessionario ha un obbligo nei confronti dell'amministrazione di provvedere alla cura, alla pulizia e alla manutenzione. Ovviamente è una scelta che va anche a contrastare i fenomeni di abusivismo che abbiamo visto sulle nostre spiagge negli anni precedenti. Certo, una delle razze è stata proprio questa, quella di evitare praticamente che terzi sine titolo appunto potessero occupare questi spazi destinati ai cittadini, quindi spazi liberi praticamente e lucrare illegittimamente su questi spazi. Così facendo noi abbiamo creato una regolamentazione di tutto il territorio monitorato, così avremo la percezione esatta di quello che succede sulle nostre spiagge libere, quindi non ci potrà essere più un abusivismo. Quali sono i tempi per questa procedura? Allora, i tempi saranno a brevissimo perché la domanda scade il 2 luglio, la possibilità di aderire a questa iniziativa da parte dei terzi, i quali, le ripeto, dopodiché verranno esaminati da una commissione perché è chiaro che devono avere dei requisiti, perché poi c'è anche da pagare il canone di concessione demaniale che mi pare sia di 2.000 euro, dopodiché poi verranno utilizzate, inizierà praticamente il servizio.